Quanti di voi commentano sotto i nostri video o sui vari social e ci contattano per un qualsiasi argomento inerente a Magic the Gathering? Avete mai notato una cosa? Io e Moxie rispondiamo per il 99% dei casi, nonostante siamo un canale piccolo abbiamo comunque tantissima gente che ci segue attivamente, che ci chiede consigli, ci chiede tantissime cose e bene o male, anche grazie al fatto di essere in due, riusciamo a gestircela e a non fare scontento nessuno. O almeno è quello che proviamo, vogliamo provare a portare avanti. Quel rimanente 1% dei casi a cui non rispondiamo sono insulti di bambini e ragazzini, insulti di 50 anni che non hanno nulla da fare nella loro vita, commenti che non hanno nulla a che fare con quello di cui trattiamo sul nostro canale. Ok, ho capito, andiamo al sodo, devo essere più diretto. Centurion e banlist varie, create da gente varia non ufficiali, mi sta sulle balle, ok? E schiera ragazzi da Omega di HMC Magic Masters e vi ricordate quella mia fatidica frase in questo video? Se potessi diventare game developer di MTG, cosa faresti? Userei questo potere per fare del bene. Prenderei provvedimenti, letteralmente, farei controlli, troverei dei metodi per fare più controlli e soprattutto riguardo ad un'altra cosa che io, ogni volta che si parla di questo argomento, diciamo che io mi infervoro un pochettino, lo hanno notato molti, e ne vediamo tanta like che vedrò di farvi tutti disiscrivere da HMC Magic Masters. Diciamo che a questo volevo arrivare, questa è la cosa tremenda, segreta, che ho voluto omettere in quell'occasione e che probabilmente vi farà disiscrivere in massa. Vi chiedo però di guardare questo video comunque fino all'ultimo secondo, perché mi piacerebbe avere la possibilità di delirare, tentare di motivare il mio delirio, per poi dare una giustificazione, in end, una giustificazione più che sacrosanta che probabilmente non sarà così esplicita qui a inizio video. Per favore quindi aspettate un secondo. Affermazioni del tipo Ma Uro è bannato! Ma dove? Perché non giochi Griselbrand? Estica! Sono quelle che mi fanno un pelino più triggerare. La cosa poi peggiore è che molte persone non sanno nemmeno che queste banlist non sono ufficiali e non hanno nulla a che fare col gioco di Magic the Gathering. Vuoi per abitudine, vuoi per scarsa conoscenza, ma spesso è così. Ultimamente molti ce l'hanno con sta banlist Centurion. Anni fa, mi ricordo, o magari c'è ancora adesso, c'era la French che penso consistesse più o meno nel mi sveglio e decido io che cosa, come, dove, quando voglio giocare. Aspetta, in cosa differisce la Centurion? A volte poi arrivava il cugino che diceva che quella carta non si poteva giocare contro di lui, così, a sentimento, altre volte arrivava quello che non poteva spendere più di 5 euro e quindi usava le foreste al posto di Shahrazad. Così, no, a caso. Il fatto principale, il problema principale che mi ha sempre fatto dire di no a queste presunte banlist non ufficiali è letteralmente racchiuso in questi ultimi esempi che ho fatto. Il cugino che vuole, non vuole, può, non può giocare o non giocare quella o quelle carte e che, per una serie di motivazioni, va ad influenzare un più ampio gruppo di persone. C'è poi chi giustifica la cosa gridando al fatto che Hey, in Wizzy sono tutti cattivi cattivi e hanno fatto solo la banlist per il multiplayer. E a queste persone io rispondo sempre che non sapevo che a Magic the Gathering si giocasse da soli, non sapevo fosse un solitario. C'è chi dice che carta X è troppo forte quando il suo amico la gioca, vince sempre, bla 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 bla. E a queste persone di solito rispondo che magari potrebbe provare anche lui a giocarla oppure che probabilmente la carta non è poi così forte ma magari lui dovrebbe aggiustare qualcosa nel suo stile di gioco, ci siamo intesi, no? Altra frase iconica sulla quale dobbiamo assolutamente fermarci a parlare un bel po'. Solring è troppo forte. Solring è troppo forte. Solring è troppo forte. Sapete qual è la cosa che rispondo sempre a tutte quelle persone che a mitraglietta continuano a gridare ed affermare che questo Solring è una carta troppo forte? Volete sapere cos'è? Che hanno ragione. Sì, sì, avete proprio ragione. È un boost di mana incredibile. Peccato che non ha vantaggi o svantaggi assolutamente nessuno visto che tutti possono giocarlo. Non so se la cosa è chiara e sono anche stufo davvero di ripeterlo a chiunque. Tutti possiamo giocare Solring in qualsiasi tipo di mazzo. È un maledetto artefatto colorless a costo 1. Quindi non ha bisogno di una precisa identità di colore. Lo possiamo mettere dovunque. E in Magic the Gathering, soprattutto nel formato Commander, c'è la possibilità che io inizi la partita facendo l'Anda Solring. O che tu inizi la partita facendo l'Anda Solring. Una partita in cui lo farà lui. Una partita in cui lo farà lei. Una partita in cui lo faranno tre giocatori al tavolo. E tu sarai l'unico stronzo a non aver fatto Terra Solring. Purtroppo questo è il gioco di Magic the Gathering. E c'è questa possibilità, ovviamente, legata al caso. Il fulcro è chi sono io o chi sei tu. Per definire in modo oggettivo, e segnatevi questo termine, oggettivo, Quando e perché una carta è troppo forte? Oppure no? Oppure è da bannare? Oppure è da sbannare? Quali competenze abbiamo? Sono sicuro che nessuno di noi saprebbe valutare in modo totalmente imparziale. E che chiunque sarebbe inevitabilmente plasmato. Da quelli che sono i suoi gusti. Da quello che è il suo stile di gioco. O da quello che viene giocato nel suo gruppo di gioco. Io in primis sarei portato a ragionare così, eh. Nessuno di noi è escluso. Quel mio amico gioca a Eliud e Ballista e vince sempre di combo? Banniamo Ballista. Io non ho i soldi per comprarmi un tutore vampirico. Il mio amichetto che ce l'ha si tutora sempre la chiusura e vince ogni partita. Quindi banniamolo. Io voglio giocare la mia Colossal Dreadmaw e attaccare pesante. Quindi banniamo Counterspell, banniamo Lama del Fato, sbanniamo Channel. Così posso giocare Easy Colossal Dreadmaw e magari anche Emrakul. Capite che il ragionamento che ci sta dietro non può che essere inevitabilmente questo. Tornando a parlare di Solring. Vogliamo davvero trovare un modo per definire la forza di una carta? Bene. Adesso troviamo una bella serie di carte che danno inevitabilmente vantaggio. E le banniamo. Tributo asfissiante? Ogni qualvolta un avversario pesca una carta noi facciamo un tesoro a meno che lui non paghi due mana? Quante volte peschiamo durante la partita? E hey, vorrei anche giocare le mie spell quindi non è che posso pagarti ogni volta per non farti fare un tesoro. Finisce il giro, due, tre, quattro giocatori. Arriviamo al giocatore con Tributo asfissiante che ha un bellissimo boost di 44 tesori e ci facciamo due domande. Studio ristico. Qualsiasi cosa tu faccia paghi? 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 Da sempre sostengo che una volta appoggiata quella carta sul campo di battaglia potremmo iniziare a chiedere paghi a qualsiasi azione. Qualsiasi azione intendo anche soffiarsi il naso che tanto i nostri avversari non si accorgerebbero di nulla. Sono talmente abituati a dire no, non pago che tu peschi a caso. Tanto nessuno dice niente. Toxic Delage è una vratta a costo 3 che ci permette di pagare quante vite vogliamo per dare meno X a tutte le creature. Sbattendocene altamente dell'indistruttibilità del bestione che il nostro avversario ha giocato pagando 25 mana. Blood Moon blocca il gioco rendendo tutte le terre non base delle montagne e hey! Non mi sembra che giocare monocolore sia tra le scelte più frequenti in Commander. Behemoth dagli zoccoli craterici più una manciata di creaturine ti chiude la partita prima ancora che i tuoi avversari si accorgano che li stai attaccando. Insomma, ho volutamente citato una carta per colore, potevamo fare mille altri esempi per non escludere niente e nessuno. Siete d'accordo con me che forse, forse il problema non sta nella carta che tutti possono giocare, ma in carte che possono essere giocate solo da quel colore, quel mazzo e quindi solo in quel contesto e magari prendono forza apposta perché vengono giocate solo in quel contesto. E voglio fermarmi subito nell'elencare carte forti perché ho citato volutamente o involutamente carte che io ritengo forti, è vero, nel modo più oggettivo possibile, ma sicuramente sarò stato influenzato in qualche modo. E infatti Omega, Crater of Behemoth, fa cagare perché devi avere per forza tantissime creature, se no non ci fai assolutamente nulla e di solito non succede mai. E questo nel tuo gruppo di gioco. Magari nel mio succede ogni 3x2. Io amavo Iona in Commander e sono sempre stato contro al suo ban. Tuttavia mi rendo conto dall'altro lato che Iona è una creatura e soprattutto in Commander ci sono mille miliardi e milioni di modi per mettere in gioco una creatura a prescindere dal suo costo di mana, quindi modi molto veloci, modi molto easy. E una creatura di quel calibro messa giù molto velocemente può far vincere la partita, stallare, va in combo un po' con qualsiasi cosa. Insomma, chi sicuramente ne sa più di me e sa valutare il gioco nella sua interezza, ha deciso. E soprattutto, chi gestisce il gioco ha deciso. E qui possiamo concludere la prima parte del discorso, il mio delirio sul perché mi sta sulle balle Centurion, piuttosto che French, piuttosto che mio cugino no blue banlist, piuttosto che tutti i discorsi fatti per giustificare queste banlist creati da persone che dicono che alla Wizzy sono tutti cattivi perché non mi fanno giocare la mia carta preferita. Da qui possiamo arrivare ad approfondire un altro discorso. Avete sentito bene quello che ho detto in quel fatidico video? Ma lo avete sentito bene? No? Risentiamolo. Oggettivamente questo, Omega, developer di Wizards of the Coast, gestore del gioco di Magic the Gathering, farebbe più controlli su determinate cose. Sbaglio o ho detto che avrei effettuato più controlli? Cosa intendevo dire? Semplice e chiaro, che avrei effettuato più controlli. Come ho già detto, ciao, siamo i tizi di Wizards of the Coast, abbiamo in gestione il gioco, le sue regole, il suo merchandise, i suoi prodotti, l'ufficialità dei tornei e ti diamo supporto. Stai alle nostre regole? Risposta numero uno. Sì. Grandissimo, bella, così si fai. Tutto il mio supporto, i nostri prodotti extra, le promo, eccetera, eccetera. Risposta numero due. No. Oh, bella, stai lontano da me. Tramite quella fattidica frase, non ho inteso all'epoca, e non intenderò mai in vita mia, che non bisogna giocare con banlist alternative. Che non si possono montare mazzi per formati che non esistono. Sono, dovreste saperlo, il più grande sostenitore of the world su YouTube Italia, su YouTube America, dovunque, del gioco for fun. Volevo semplicemente intendere che una cosa for fun, non ufficiale, è buono che rimanga molto lontano da ciò che invece è organizzato e ufficiale. Provo a spiegarmi ancora meglio, già mi sta sulle scatole vedere che un evento, semplicissimo ma ufficiale, come un FNM, che andrebbe giocato standard, almeno è quello a cui sono rimasto io quando facevo FNM, un po' che non ne faccio, doveva essere giocato standard, secondo le direttive Wizard, poi magari è cambiato qualcosa nel corso degli anni, nel caso commentate e correggetemi. Già vedere un evento così, ufficiale ma semplice, giocato modern, mi fa un po' storcere il naso. Perché mi sembra di non portare rispetto, chiamiamolo così, all'azienda che ha in gestione il gioco, organizza gli eventi, gestisce gli eventi, fornisce dei prodotti e dei premi. Poi capisco che ci sta, sono il primo ad approvare questa cosa per un evento ufficiale come un FNM, perché vuoi le piccole realtà, i piccoli negozi, i negozi dove non ci sono troppi giocatori, tutti quei giocatori giocano solo Pioneer, ma sì, facciamolo Pioneer, è anche una questione di aiuto verso i negozi, di supporto. Ma ci stiamo comunque allontanando, non per cattiveria assolutamente, da quelle che sono le direttive ufficiali di come andrebbe fatta quella cosa. Banalmente mi è anche capitato di vedere a delle pre-release due che si stufavano, avevano il Commander dietro, ma sì, questo game ce lo giochiamo Commander. Ci sta, sì, però è anche vero che io ti sto fornendo il materiale, ti sto fornendo delle direttive e tu te ne stai fregando e quello non mi piace. E in questi due esempi ho comunque parlato di tornei ufficiali, non di grande rilevanza, e comunque ho citato formati esistenti, Modern, Commander, Pioneer, ok. Fateli i tornei Centurion, Tiny Leaders, Frontier, ma non usate il logo Magic the Gathering per sponsorizzarli. Non lo so, se io fossi l'azienda che gestisce il gioco, che ti dà delle disposizioni, ti fornisce i prodotti, ti dà delle direttive, ti dà del supporto, la parola chiave è supporto, e viene a sapere che tutto ciò che viene imposto, chiamiamolo così, diciamo così, viene bypassato, insomma non ci rimarrei proprio bene. Concludendo, anche se in modo molto lento, perché so già che andrò avanti ancora un bel po', queste sono e rimangono mie opinioni, mie paturnie. Il discorso di prima, ve lo ricordate, no? Non ho mai detto di non giocare Centurion, non giocare French, non fare un rubamazzetto con le carte di Magic, piuttosto che svegliarvi la mattina e dire a tutti di non giocare quella carta contro di voi, perché secondo voi è troppo forte, non l'ho mai detto e mai lo dirò. Una volta comprate le figu, sono tue, e ci fai quello che vuoi. Adesso così quasi organizzo un bel torneo, dove facciamo mazzi con solo carte da 50€ in su, ma ci facciamo i castelli di carte, e chi arriva più in alto vince. E se questo video arriva a 80 like, vi porto un video dove faccio un castello di carte col mio commander monoblue full foil. No, non sto scherzando, lo faccio. E metto Solring e Manacrypt in cima, visto che sono stroppo. Il punto finale è, ok, giochiamo a cosa, come, quando e dove vogliamo, ma per favore non facciamo passare per ufficiale ciò che è ufficioso, a prescindere anche da quanti tizi approvino o no la cosa. A tal proposito vi invito quindi a provare le cose prima di esprimere giudizio. Vi invito a provare la banlist ufficiale di Magic the Gathering per commander, nonostante i vostri amici vi dicano che Centurion è mille volte più bilanciata. Vi invito a provare la banlist Centurion per giocare 1v1. E qui voglio proporvi anche una cosa molto importante, mi volevo fermare su questo argomento. Vi lascio qui in descrizione un link che vi guiderà verso la conoscenza di Herald Commander. Un bellissimo progetto nato da un nostro carissimo amico che ci teniamo a farvi conoscere. E Emanuele mi raccomando ci tengo a parlare con te di Herald in live magari discutendo anche un po' dei punti che ho trattato in questo video, quindi questo è un invito. Provate, giocate, divertitevi e fate tutto quello che vi piace. Tuttavia ogni cosa ha il suo contesto e il suo luogo. Le parole del Professor Rock risuonano nella testa. Rispettare le regole e disposizioni è sempre importantissimo e c'è sempre qualcuno che sa gestire le cose meglio di noi. Questo a prescindere dai gusti personali. Ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima!